ciao ragazzi bentornati qui su sacface io sono zenzio e vi seguo la seconda parte su meglio soffia iscrivetevi commentate e cosa ne pensate del titolo soprattutto mettete mi piace allora eravamo arrivati qui dove abbiamo pitturato il quadro nella prima parte con del sangue adesso non si tira la porta e dobbiamo andare verso un'altra direzione vediamo un attimo dove buttarsi ma che puttana so se oh ma che cazzo ma adesso so che è fuori di testa tutto tranquillo ah eh ovvio no eh ovvio no le spariscono i corridoi portarsi vostra eh no è normale andare verso la luce ma vi rendete conto che io mi so co del eh ma io ma neanche se mi dassero giugno lo scordato numero 9 oh la nuova non lo scorderò adesso ma neanche se orca troia che se mi dassero un milione di euro se andrei in sua casa aspettate no forse per un migliore lo farei però mi porto dietro un esercito di soldati minimo e i costbusters soprattutto ah no ah guarda sei di una bellessa tu quindi non doveva andare di lì ma forse è andata qua allora ah porca miseria rossa chiusa ah la velocità ha chiusa però alla peradce la porta è chiusa ma la peradce la porta è chiusa Scusate ragazzi ecco mi è dovuto andare un attimo. Ma chi è? A chi gli parla? Oh ma mi sembra tutto uguale sul corridoio. Allora andiamo al contrario, andiamo al contrario. Eh, eh, chi è? Messazio? What the fuck? Come la sua! ragazzi non sto capendo più niente eccola quella porta ma che cazzo era ma che non è normale sto gioco non è per niente normale sto gioco ragazzi per niente ecco per l'appunto che devo raccogliere qualcosa a me se va tutto cosa devo fare ma che è se a caso è il contrario what ragazzi vi giuro che non sto capendo più niente ho capito che vi è bloccata ma dove devo andare se devo guardare il suo piccolo non so se qualcosa Devo seguire il sangue, il problema è che se la pittura deve seguire il problema è che la stanza qui al contrario, non c'è una porta? Ah, dove c'è la luce? Ah, beh, normale no, uno accendere la luce è la stanza normale, normale veramente. Chi cazzo sei? Chi cazzo sei? Che dici, tu? Chi fai? Cacolo, si blocca il decreto di San Scherzo. Ah, chi è? Chi ti piange? Chi sei? Oh, me? Mazzetto. L'ascensore, siamo tornati l'ascensore. Ufff. No, al contrario, non è. Ok. Porca posso? Ah, sono ancora pieno, te? Mi piace molto il re-design che sto già ben fatto. Che miseria. E' una sgabussina in questo momento. E' un marabasso sicco qua. Muro? 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 Cazzo che è? Ah, va. Oh, cazzo. Io sarò dalla luce, va. È andata in cantina senza la luce e non so neanche andare. Quindi, Sì, assediamo. Il pianoforte. Oh, madonna Santissima. Che sta succedendo? Io... Mi sta per aggare un infarto, davvero. No, ma subito che adesso trovo. Non riesco più... Oh, cazzo! Trovo un attimo quello di sopra. No? Devo tornare su quel post allora. Madonna Santissima. Sì. 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 Già. Sì. 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 che scommettete quello che vuoi che è dietro questa porta ecco quello appunto non si riesce bene a capire ancora che dipinto sia sta salvando il tutto il gioco si capisce bene ok ragazzi il video si è concluso qui grazie per avermi seguito no non volevo più la guida scusate ora al menu ok il video su google ap grazie per avermi seguito qui tutto l'assessore e da sacface e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti iscrivetevi ciao